Franco Lepore, sindaco di Galluccio, tutto pronto per questa 43esima edizione della Sagra dell'Uva? Sì, è tutto pronto. Quest'anno chiaramente c'è stato un cambiamento rispetto al passato. Abbiamo aggiunto, oltre a Sagra dell'Uva, una rassegna di vini sia di Galluccio e abbiamo coinvolto anche le doc presenti nella terra di lavoro. Per cui l'obiettivo è quello di dare valore sia alla enogastronomia e soprattutto alle produzioni di vino. Quindi perché dovrebbe essere visitata questa manifestazione e come si svolgerà? La manifestazione si svolgerà in tre fine settimana, quindi sarà inaugurata il 15 settembre e si svolgerà nel weekend 15-16, 22-23 e 29-30 settembre. Verrà organizzata chiaramente con la presenza delle 12 cantine che insistono nel territorio di Galluccio. Ci sarà la partecipazione di cantine di terra di lavoro, chiaramente che produrranno coloro che producono Doc, l'Asprino, il Casa Vecchia e il Falerno. Quindi ci saranno parecchie cantine anche della terra di lavoro. Per cui noi quest'anno l'obiettivo è quello di dare risalto soprattutto ai vini. faremo delle degustazioni gourmet in ogni sabato e domenica dove saranno presenti anche ristoratori del territorio e chef che arriveranno anche da Roma. Quindi l'obiettivo è quello di effettivamente rispostare e di dare un senso diverso a questa manifestazione. non la semplice festa paesana ma soprattutto la valorizzazione del vino e far conoscere il territorio perché l'idea è anche quella di pubblicizzare questo evento non solo in provincia quindi anche il fatto che siamo venuti qui a presentarla, noi lo riteniamo una cosa importante, faremo pubblicità anche nel capoluogo a Napoli, un po' in tutto il territorio. Ci aspettiamo la presenza oltre che degli operatori del settore, chiaramente di molti visitatori. In bocca al lupo. Comune e proloco in sinergia per questa importante manifestazione. Vicepresidente. Allora diciamo che è una collaborazione che va avanti da mesi perché l'importanza di questa sagra sarà a livello veramente altissimo. Ci siamo impegnati, la proloco ha affiancato l'amministrazione comunale per mettere in piedi tutta la macchina organizzativa. Speriamo nei buoni frutti e nel successo della manifestazione ovviamente inviteremo tutti a partecipare. Gennaro Oliviero, consigliere regionale del territorio. Oggi qui per questa presentazione della sagra di Galluccio. Galluccio è un'area importantissima nella nostra provincia per la produzione vitivinicola. Credo che sia l'area più importante da questo punto di vista di terra di lavoro. Ci sono buona parte dei migliori vini della nostra provincia e Galluccio è proprio il paese che dà la Galluccio DOC e quindi all'area di competenza del vino e l'uva che si produce lì è una delle migliori uve della nostra regione. La regione ha contribuito? La regione ha contribuito a questa iniziativa per promuovere i prodotti del territorio e per promuovere il territorio. Credo che queste iniziative che l'amministrazione di Galluccio sta portando avanti insieme a quello che si terrà fra qualche tempo su Rocca Monfina per la Castagna e se riusciamo a introdurre pure iniziative che riguardano il fungo porcino di quelle parti riusciamo a mettere in circuito insieme al parco e alla comunità montana se riusciamo ad avere una comunità montana che programma il territorio dei risultati eccezionali. Perché adesso la comunità montana non assolve ottimamente il suo compito? Per la verità non mi sono ancora occupato dei comunità montana cercherò di occuparmene per il futuro. Al di là del nome sagra io ritengo che l'evento di Galluccio sia un evento importante per tutta terra di lavoro e ecco la presenza della provincia a questa manifestazione e si innesta in un percorso che è quello del recupero e della valorizzazione di tutti gli elementi identitari di un territorio di tutta la provincia di Caserta e serve anche a mettere in evidenza delle cose belle che qualcuno sostiene che non abbiamo? Assolutamente sì, lo dicevo, già da qualche mese abbiamo intrapeso questo percorso al di là di Feltrinelle e quant'altro la provincia di Caserta è ricca di un patrimonio enogastronomico, culturale, artistico importantissimo a livello nazionale che cercheremo di mettere in risalto a livello appunto nazionale e internazionale. Maria Angela Capraro consigliere comunale di Galluccio con delega al turismo e alla cultura l'importanza di questa manifestazione? Allora quest'anno la 43esima sagra dell'uva, la rassegna dei vini di Galluccio e di terra di lavoro in qualche modo vuole uscire da quella che era lo stand by degli ultimi anni e vuole proporre una manifestazione che sia all'altezza di eventi di rilevanza nazionale con un doppio canale di fruizione dei vini doc di Galluccio e un'apertura anche alle doc della terra di lavoro Falerno del Massico a Sprigno d'Aversa e Casa Vecchia di Ponte Latone. Quindi avremo un doppio canale di degustazione e di conoscenza di questi vini, un canale più informato e settoriale con incontri tematici e degustazioni accompagnate da cibi e preparati dai chef amici e sostenitori delle doc di terra di lavoro, somministrati dai sommelier rice e poi in piazza una presenza di tutte le cantine di Galluccio e delle doc ospiti di terra di lavoro con percorsi degustativi itineranti che permettano ai fruttori di godere dei vicoli e delle stradine di Galluccio accompagnati da ottimi prodotti gastronomici locali. Un appuntamento da non perdere per diversi motivi quindi? Assolutamente, vi aspettiamo gli ultimi tre fine settimana di settembre, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 settembre. Luigi Verrengia, neopresidente del Parco Roccamonfine Foccia del Garegliano, in carica da pochi mesi. Un'iniziativa importante questa di Galluccio? Un'iniziativa molto importante che dà lusso al territorio, che mette in vetrina le bellezze del comune di Galluccio e dal punto di vista vitti vinicolo si mette in mostra dando la dimostrazione che i vitigni della doc Galluccio sono dei vitigni che producono dell'ottimo vino e che a livello internazionale hanno il loro posto. Come Presidente del Parco lei sta pensando a qualche iniziativa per tutelare e valorizzare queste risorse del territorio? Il compito del Presidente del Parco è quello di salvaguardare il territorio in sintonia con lo sviluppo ecosostenibile del territorio stesso. È un territorio che fortunatamente è incontaminato. Andare a Galluccio, passare per i vigneti e per gli oliveti di Galluccio dà la dimostrazione che è un territorio che può solamente crescere. Da parte dell'ente Parco ci sarà certamente una collaborazione che è indispensabile anche sia col comune sia con le associazioni presenti sul territorio quanto se non ci sta questa sintonia non si può creare quel volano per dare sviluppo al territorio, per dare sviluppo ai prodotti del territorio per dare sviluppo al settore vitivinicolo che già da sé dà risultati molto importanti.